Grazie a tutti. La piattaforma di Facebook potete mandare ovviamente nella pagina di Aereoporte. Abbiamo già il messaggio, già la telefonata prima. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, mi chiamo Ronzani, Sergio. Se alziamo l'audio studio, grazie regia. Sergio, ho capito il nome e da dove chiama? Da Padova, via Palestro. Via Palestro, prego signor Sergio. Volevo prendere l'occasione per suggerire al signor Andrea Micarizzi di guardare un po' le strade perché abbiamo strade piene di buche ma pericolosissime da via Facciolati a via Cavalotto e Bassanello sopra il ponte Quattro Martiri c'è una buca lunga a tre metri non è una bocchetta piccola, tre metri e l'incrocio con via Bembo. Io ieri cercavo di evitarla perché rompica la macchina e quelli di dietro mi suonavano. È pericolo fare un incidente. Anche la gente che si vede in Torino io lo so, questo signor Andrea Micarizzi lo sa che ci sono le strade in quelle condizioni dove provvedere, non si può proseguire in questa maniera. Io sono nato a Padova da tanti anni ma non ho mai visto le strade io ho quasi 80 anni ma non ho mai visto le strade in queste condizioni. Ti ringrazio tanto grazie Andrea se vuoi provvedere scusa se ti do del tuba io ho 80 anni va bene, signor Sergio grazie mille, ciao signor Sergio è stato molto chiaro grazie a te frate il vice sindaco le risponderei immediatamente. Grazie Sergio, ha fatto bene ha ragione le condizioni delle nostre strade sono fondamentali strade a posto significa decoro e sicurezza stradale e anche eliminazione di barriere architettoniche nei marciapiedi perché un marciapiede è messo male siamo in via palestro la settimana prossima nel quartiere lì a fare alcune sistemazioni in ufficio ho il dettaglio degli interventi che faremo cerchiamo, quindi arriviamo anche lì la settimana prossima cerchiamo di essere presenti il più ma questo mi sembrava appunto il 4 Marti lui chiamava dal quartiere palestro diceva che nel suo quartiere poi ha fatto anche una è una segnalazione puntuale di una buca questo è il periodo in cui le buche si formano di più in tutto l'anno perché? perché le temperature rigide e le piogge creano perché insomma l'acqua... ma non ha piovuto tanto quest'anno però quando piove si nota e le temperature fredde le dilatazioni spaccano e si creano questi crateri quindi settimana prossima ci siamo io vorrei far di più io vorrei far di più però le asfaltature sono quei lavori che sono si pagano tanto al chilo e quindi più risorse abbiamo più ne facciamo e quello in situazioni di difficoltà economiche l'ultima finanziaria ci ha tolto più di 4 milioni di euro di contributi dallo Stato e da qualche parte li dobbiamo togliere bene andiamo con i messaggi Elisabetta con il primo chiedo rapidità anche al vice sindaco così riusciamo a contentare tutti è vero che in via San Crispino dove c'è la recinzione arancione ed una serie di parcheggi anche comunali pronti sarebbe dovuto sorgere il nuovo Decathlon cosa è successo? responsabilità del comune? lo chiede Enrico sì no il comune non cioè sì o no? cioè sì ha ragione sì e no cosa vuol dire? sì lì l'operazione di Decathlon no il comune non non c'entra in questo è una partita tutta privata andiamo con il secondo messaggio il cinema altino e il cinema mignon di Vialtinate quale è futuro? questo messaggio stuzzica i sogni del sindaco perché lui li nomina li nomina sempre questi l'abbiamo citato anche la settimana scorsa questi luoghi che sono luoghi anche un po' della storia della memoria della nostra città e piange al cuore vederli chiusi non sono luoghi pubblici purtroppo e quindi è difficile poter immaginare se si parla tanto di auditorium il sindaco si è anche lanciato in alcune in alcune proposte e chissà che magari insomma si riesca a trovare un finanziamento che possa anche includere la sistemazione di uno spazio privato come effetti la settimana scorsa Michalizzi chiesi al sindaco se può mettere dei paletti su quel cinema altino il cinema mignon e lui ha risposto come sta rispondendo a lei mentre che essendo privato diventa molto complicata la cosa perché appunto è un peccato mortale a vedere un manufatto del genere mentre il Concordi mi sembra stia già prendendo una forma e stanno facendo dei lavori ristoranti negozi tant'altro sarebbe bello che anche quel cinema lì in pieno centro avesse qualche altra locazione che non un palazzo chiuso insomma ma il Concordi è un esempio come fu il super cinema che è diventato è diventato benettono sono tutte operazioni private però a me affascina sempre come il cittadino ritiene il sindaco il comune insomma come quel soggetto che può intervenire anche in queste cose che lui avverte come vicine il cittadino lo stato di questi luoghi a cui è legato affezionato e quindi ritiene insomma il comune ma è bello questo perché vuol dire che è un'istituzione che funziona poi da parte vostra sta di spiegarlo bene che non è responsabilità vostra quindi nel momento in cui il cittadino chiede perché vuole bella Padova è chiaro che se l'amministrazione non può perché è di proprietà privato e la legge non prevede di non fare nulla potete spiegarlo e quindi purtroppo se la legge è questa non si può fare nulla però io una cosa che amo di questo mestiere è questo senso come dire di di fiducia di rivolgersi al al municipio all'amministrazione comunale qualunque essa sia non viene mai chiamato in causa il presidente della regione o il presidente del consiglio su le questioni di ma lo sa benissimo no ma questo è bello è bello perché in effetti noi come dire viviamo nei pensieri e nelle aspettative delle persone questa è una cosa che si responsabilizza è così il terzo messaggio credo Elisabetta andiamo pure sono stata a Trondheim in Norvegia dove funziona benissimo il tram su ruote perché qui a Padova si deve stravolgere la città come il vostro progetto chi portò il metro tram il metrobus a Padova è stata è stata l'amministrazione guidata dal sindaco destro ancora negli anni del è stato già un altro il primo no no si ricorda male qua la devo perché era un altro progetto era un altro mezzo era un altro mezzo e poi quell'amministrazione la giustina destro io ricordo benissimo che ha fatto una campagna elettorale contro il tram e poi fece l'inaugurazione con Berlusconi ricordo benissimo poi cosa fece il sindaco destro all'epoca convocò una commissione di esperti fece analizzare il progetto dell'amministrazione precedente quella commissione valutò che il mezzo per Padova doveva essere un mezzo su rotaia perché è efficiente però si optò per una soluzione un po' diversa di un mezzo che è un mezzo monorotaia con le gomme e quindi ha questo tipo di per coerenza una città non può avere delle dimensioni di Padova mille come dire sistemi diversi di trasporto anche perché poi le linee devono essere interconnesse tra loro e quindi diciamo per una ragione di funzionalità però i tram rispondono alle caratteristiche di portata cioè di trasporto di quantità di passeggeri che portano per città delle dimensioni come quella di Padova io invito i cittadini a riflettere su una cosa non è tanto la caratteristica estetica del mezzo che importa quando andiamo in una città in visita non giudichiamo mai il mezzo se ha una rotaia due rotaie o sale a ruote ma la capienza è dove lo prendi e dove ti porta l'efficacia del servizio ed è su questo che il tram a Padova è vincente ultimo messaggio in questa serie credo Risa Vetta perché è stato fatto il centro vaccinazione e tamponi all'ospedale ai colli dove non ci sono parcheggi ed è un cantiere aperto invece di lasciarlo alla fiera in quella zona in quella zona abbiamo migliorato e ampliato un'area a parcheggio però questa è una scelta che ha fatto l'USL e la regione perché finita diciamo la fase acuta e quindi l'esigenza massiccia di vaccinazioni hanno abbandonato il complesso fieristico che in effetti è più costoso e quindi probabilmente per questo hanno abbandonato utilizzando una struttura propria è vero è più decentrato è vero era molto funzionale anzi voglio ringraziare i medici e i volontari che in quei mesi hanno tenuto aperto il centro vaccinazioni in fiera però sicuramente è una scelta che la regione ha fatto in ragione di un criterio economico senti all'ultima che la faccio perché siamo in chiusura non so Elisabetta se ancora ha telefonato messaggi però davvero le piste ciclabili ho visto vicino a quella in via Gattamelata che una è terminata vede che l'altra sta terminando lei è un osservatore attento io prendo il nodo il fazzoletto man mano che vedo i lavori c'è la telefonata guardi sentiamola chi abbiamo perché siamo davvero in chiusura pronto buonasera con chi parliamo e da dove salve sono Paola e abito naturalmente a Padova ma che zona di Padova signora Paola che zona di Padova allora chieda nuova prego se chiedo sentimente perché siamo in chiusura se è rapida la ringrazio sì io sono rapida se mi permette di parlare sarà rapidissima allora le strade di Padova sono tutte un disastro sono ancora prima che venisse rieletto proprio Giordani avevo fatto notare questa cosa che è veramente impossibile ci si spacca la schiena il collo e anche la macchina non parliamo poi già una chiede nuova anche la rotonda del cimitero è una vergogna e per non dire le altre strade una seconda cosa basta con questi pianistei che non ci sono perché ne passa e ne pagliamo forse non sono così ben spesi perché le strade non solo le strade ma anche il resto sono veramente Padova è irriconoscibile terza cosa vogliamo rovinare ancora con ulteriore tram ecco sono fatta rapidissima molte grazie grazie signora Paola il vice sindaco sarà altrettanto rapido a rispondere a tutti questi quesiti che la signora Paola ha posto ne parlavamo prima delle strade mi piacerebbe poter avere più risorse è vero che i cittadini pagano le tasse noi avevamo voluto non aumentare la pressione fiscale a fronte di un governo che ha diminuito i trasferimenti ai comuni non abbiamo fatto una battaglia su questa cosa perché le chiedo rapidamente perché devo chiudere e quindi come dicevo al signore prima noi abbiamo un elenco strade che stiamo sistemando in questi giorni siamo impegnati in tante sistemazioni stradali avere più soldi ne potremmo fare di più oggi con un bilancio che chiude con meno 12 milioni mi sembra che questa signora sia anche un po' contro il tram mi sembra di aver intuito si ha detto che non ha votato l'amministrazione quindi anche contro l'amministrazione ma i cittadini di Padova sono da ascoltare tutti quelli favorevoli e quelli contrari anzi io quelli favorevoli vado meno e ascolto sempre le voci contrarie perché dobbiamo sempre come dire puntare a migliorare a soddisfare le esigenze di tutti quando uno ti racconta un problema ti sta suonando un campanellino d'allarme che va sempre ascoltato e poi va anche fatto e va anche fatto mi piacerebbe far tutto ho capito perché poi il discorso di parlare mi carichi parlano tutti però poi infatti bisogna fare il capisco capisco le difficoltà economiche di un'amministrazione però io penso che girando per la città si vedano tanti cantieri ma tanti cantieri si commentava Gattamelata si commentava Via Friburgo si commentavano tanti sistemazioni anche di strade in Via San Michele abbiamo chiuso l'altra volta stiamo lavorando in Viale dell'industria in Lugia Palesto controlleremo anche la rotonda del cimitero ovviamente se uno guarda i posti dove non siamo sono di più perché la città è grande ma è una città che non si è mai fermata e non è ferma oggi certo grazie mi scusi se la devo chiudere ma ho capito che ovviamente c'è un tempo dobbiamo seguire il nostro telegiornale di Aireport grazie vice sindaco Andrea Michalicci grazie a lei grazie ai spettatori ci vedremo la settimana prossima saluto anche i nostri telespettatori dando l'appuntamento a martedì 19.30 con il sindaco Risponde e vi lascio l'informazione di TV7 Triveneta con Aireporter buona serata grazie a tutti